Nell'itinerario delle letture bibliche domenicali ci ha accompagnato in questo anno liturgico prevalentemente il Vangelo secondo Marco, che lasciamo proprio in questa domenica con una parte del discorso di Gesù sulla fine dei tempi. La descrizione, come sentiremo, è veramente impressionante. Sembra quasi di rivedere, al contrario, la prima pagina del libro della Genesi dove si raccontava la settimana della creazione. Allora una dopo l'altra le creature occupavano il loro posto sullo scenario del cosmo. Ora invece nelle parole di Cristo si annuncia profeticamente la loro uscita di scena, una alla volta. Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce e le stelle cadranno dal cielo. C'è una frase che colpisce per la sua chiarezza sintetica. Il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno. Gesù dichiara che tutto è destinato a passare, non solo la terra ma anche il cielo che qui è inteso appunto in senso cosmico, non come sinonimo di Dio. La Sacra Scrittura non conosce ambiguità. Tutto il creato è segnato dalla finitudine, compresi gli elementi cosmici che invece le antiche mitologie tendevano a divinizzare. Non c'è nessuna confusione tra il creato e il creatore, ma c'è una differenza netta. Il creato passa, il creatore resta. Con questa distinzione Gesù afferma che le sue parole non passeranno, cioè stanno dalla parte di Dio, cioè sono eterne. C'è poi il tema del giorno e dell'ora, sul quale fin dai tempi dei padri della Chiesa si sono versati fiumi di inchiostro, fiumi di parole per comprendere il senso di quanto Gesù dice. Nessuno lo sa, neanche gli angeli nel cielo, né il figlio di Dio eccetto il padre. C'è un problema formale riguardo la cristologia. Come è possibile che il figlio non conosca ciò che conosce il padre, se l'amore e la conoscenza del padre e del figlio sono perfetti. A me sembra che qui Gesù voglia dire in modo paradossale che questo punto, cioè l'ora della fine, non è oggetto di rivelazione. Il tentativo di conoscere il giorno e l'ora della fine del mondo, ma potremmo anche parlare della nostra fine personale, della nostra morte personale, è sempre stato oggetto di smaniosa curiosità da parte degli uomini. Ma questa conoscenza non è per nulla un bene per le persone. Se conoscessimo il giorno e l'ora, tutta la nostra vita sarebbe polarizzata su quel giorno e su quell'ora. Gesù invece vuole persuaderci che tutta la vita è preziosa e che ogni istante è decisivo, che ogni momento è e può essere quello che conta. Se conoscessimo il giorno e l'ora della fine, perderemmo in realtà di vista la vita, nella sua durata e nel suo valore. Negando dunque ogni possibilità di conoscere il giorno e l'ora della fine, la fede ci insegna che ogni giorno della nostra vita vale come il primo, vale come l'ultimo. Ma sta di fatto che una fine c'è. Vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con potenza e gloria. Notate che il Vangelo dice vedranno. Più che di un ritorno si tratta di un vedere, di una manifestazione evidente. Noi non stiamo aspettando il Signore nel senso che adesso Egli è assente e lontano dal mondo. In realtà stiamo aspettando che si manifesti apertamente Lui che è già presente, che già ora e per sempre è il Signore. Il Vangelo ci sollecita a cercare i segni di questo avvento del Signore. Dai rami di un fico, dice Gesù nel Vangelo, da un rami di un fico che germoglia, riconosciamo che siamo in primavera. Così anche l'avvento del Signore ha i Suoi segni premonitori. Qui però il discorso si fa più lungo e complesso e richiede un po' di attenzione. Perché Gesù ricorre alla parabola del fico che butta le foglie. E poi che cosa significa quell'altra frase? Non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. La passione di Cristo è avvenuta in primavera, proprio quando si intenerisce il ramo del fico. Così è proprio la generazione dei Suoi primi interlocutori che visse storicamente quei fatti. Gesù dunque sta parlando sì della fine del mondo, ma più in profondità sta parlando della Sua morte e risurrezione. In altri termini, la Sua morte e risurrezione sono la fine del mondo. Nei giorni della Sua risurrezione, duemila anni fa, così come ancora oggi nella vita della Chiesa, Cristo si è manifestato e si manifesta solamente a quelli che credono in Lui. Quando sarà la fine, ogni uomo lo vedrà. Il giudizio definitivo è già stato pronunciato sull'umanità, perché la croce di Cristo ha già definitivamente condannato il male e giustificato il bene. Noi attendiamo solo che questo giudizio si manifesti al mondo e a tutti gli uomini. Gesù parla della Sua morte in termini di fine del mondo, perché realmente tutto è compiuto. Con la Pasqua di Cristo tutto ciò che era decisivo e necessario per la salvezza nostra e del mondo si è già compiuto, si è già realizzato. Il futuro dunque non ci deve spaventare, perché è tutt'altro che pieno di incognite. Nella fede riconosciamo già oggi presente il giudizio di Dio che sarà manifestato. Il mondo passa, il mondo passa, ma chi si nutre di Cristo e della Sua parola resta per sempre, perché le mie parole non passeranno, dice il Signore.